Per la giornata del Congresso Mondiale delle Camere di Commercio, cominciamo bene con l'ingegnere Pininfarina, presidente della rete dei marchi importanti della nostra regione, vogliamo spiegare meglio di che cosa si tratta, che cos'è questa rete? Exclusive Brands Torino è una rete di impresa che nasce nel 2011 sotto il supporto e l'egida dell'Unione Industriale di Torino e è una rete particolare, è una rete esclusiva, infatti si chiama Exclusive Brands Torino dove Exclusive sta proprio per delle aziende che offrono prodotti e servizi particolari, non generalisti se vogliamo, se vogliamo per certi aspetti un po' di nicchia, Brands sono aziende che hanno una storia lunga di marchi, prevalentemente anche marchi familiari, family business, aziende che hanno una storia e Torino è un radicamento sul territorio, se non è Torino è il territorio piemontese, quindi è un progetto molto innovativo perché non si tratta, come la maggior parte delle reti, non è una rete di filiera, quindi anche l'individuazione di sinergie fra delle aziende, di territori e di ambiti così diversi non è stata facilissima, però stiamo procedendo con dei progetti di comunicazione delle nostre aziende in rete che ci stanno dicendo che abbiamo fatto la cosa giusta nel 2011. Ci sono tantissime potenzialità, soprattutto verso l'estero, perché avete deciso di supportare questo importante congresso delle Camere di Commercio? Tanto è che è un'opportunità straordinaria, avere il congresso internazionale, mondiale delle Camere di Commercio a Torino, non potevamo non esserci, quindi abbiamo aderito alla proposta della Camera di Commercio di Torino con una presenza, con una sponsorizzazione, qui direttamente sul campo, perché abbiamo la possibilità di avere dei contatti mirati con tutti i congressisti in questi giorni. Non solo abbiamo sponsorizzato e abbiamo ottenuto in cambio uno spazio, un'area lounge, un'area relax dove possiamo mettere a contatto i congressisti con i nostri marchi, quindi abbiamo dei prodotti e dei servizi che offriamo, che mostriamo ai congressisti in questi giorni. Quindi è un esempio di iniziativa sinergica sulle nostre aziende, che mi pare molto promettente. Molte grazie. Grazie. Abbiamo deciso di essere presenti qui nel mondo della Camera di Commercio, perché è una opportunità fantastica per noi. Quindi è un'attraordinaria meeting che abbiamo questo anno in Torino, quindi abbiamo fatto un team con la Camera di Commercio per supportare la nostra presenza qui. e il network Exclusive Brands Torino è presente in un'area relaxe, dove i congressisti possono venire e avere contatto con un buon numero, 14 brand che appartengono al nostro network. Exclusive Brands Torino è molto speciale, non è un brand generalista, ma una sorta di brand di niche. Brands significa la storia di queste firme, che in alcuni casi sono più di 100 anni, e questi sono un business di famiglia, e principalmente tradizionali, ma innovativi, e Torino, che significa il territorio che è il nostro area. E stiamo lavorando molto bene con l'Associazione di Industriale di Torino da 2011, e questo è uno dei più importanti eventi che abbiamo gestionato in ultimi anni.